Ma Chitano, ma i meriti della tua crescita con chi li dividi? Allora, un po' con Pietro, poco. Poco? Poco. Il resto, vabbè, diciamo, devo molto al mio fisico, che è cambiato rispetto all'anno scorso, è cambiato notevolmente. Ma ti curi meglio, con maggiore attenzione. Certo, certo. Mangi in maniera più ordinata. Mangi in maniera più ordinata e molto di meno rispetto a qualche mese fa. Senti, ma hai vinto già due tornei di terza categoria, sei pronto per la seconda o no? Certo, spero di esserlo e mi sento anche abbastanza pronto. Ma già da giugno? Già da giugno. Ce la fai? Hai punti per salire? Ne mancherebbero pochi, ne mancherebbero pochi, però non penso di farcela. La partita più bella che hai vinto quest'anno qual è? Penso alla finale con Cantilmo a capo, che fino a 7 sia il terzo. Vabbè, quindi, ma qui ti hanno fatto festa tutti quanti? E qui sì, sono stato abbastanza contenti perché non ho mai fatto molti tornei e quest'anno quei pochi che ho fatto li ho anche portati a casa. Quindi ora ti temono tutti quanti? Penso di sì, nel almeno tra le terze categorie sì. Allora allenati. Certo. Vai, ciao. Ciao.